Grazie a tutti. Le interviste avevano tutte un po' la stessa caratteristica, erano precedute da un profilo, da un profilo dell'autore che intervistavamo, naturalmente era un profilo che cercava di cogliere il carattere dell'autore. E poi c'erano appunto le interviste che erano molto particolari perché chiedevano appunto il rapporto, cercavano di esplorare il rapporto con la scrittura, cercavano di capire il rapporto dell'autore con i personaggi, cercavano di andare a fondo anche sulle radici, sulle letture che l'autore aveva fatto, sugli scrittori che amava. Questo perché appunto poi c'era una voglia da parte del quotidiano Lotta Continua e quindi di quelli che lo leggevano, di tornare ad interessarsi in qualche modo del romanzo. Ecco adesso iniziamo ad ascoltare il profilo e poi dopo il profilo ci sono tre domande che abbiamo selezionato. Da Ciamaraini, non c'è dubbio, ama il romanzo, anzi il grosso romanzo, quello in cui ti perdi. Il suo è un amore caratterizzato da una robusta oralità. Si dichiara infatti divoratrice di Corrad, Proust, Dostoievski, Balzac, tutti autori che non si sono certo segnalati per esiguità di produzione. Tutti i grandi chiacchieroni. Leggere, anzi divorare l'opera omnia di Balzac. Neppure Arbasino per sua stessa ammissione ce l'ha fatta ed è tutto dire. Ad un certo punto durante l'intervista ha letteralmente detto di essersi fatta delle vere pappate di romanzi. Gli occhi, mentre faceva queste ammissioni, brillavano come quelli di un gargantua che ricordi tavole imbandite. Sono affermazioni compromettenti, invoca una scrittrice non più ventenne, con molti successi al suo attivo. Tanto entusiasmo adolescenziale inesausto, tanto amore per il racconto, anzi la gioia del racconto, non è scusabile. Che dirà adesso Manganelli? La domanda che le viene posta è come ti poni di fronte al problema del raccontare? Il romanzo negli ultimi vent'anni ha negato la narrazione. Chissà perché lo abbiamo chiamato romanzo, forse per la mole, ma in realtà abbiamo avuto monologhi, frammenti, molto spesso poemi lirici in prosa. La narrazione è stata messa da parte, si è negato il piacere del racconto. Per molti anni mi è successa una cosa strana. Quando mi sorprendevo a raccontare per il piacere di raccontare, mi dicevo ecco, c'è qualcosa che non va, qualcosa di vecchio. Sembrava che ogni forma di racconto fosse una forma di naturalismo. Il naturalismo, questa terribile parola. Ma la verità è che senza la gioia del racconto non c'è romanzo e questa gioia mi appartiene. L'ho provata fin dalle prime letture. Mi piace proprio leggere delle storie, mi è sempre piaciuto. Anche in poesia mi è difficile scrivere versi in cui non ci sia uno spunto narrativo. Tuttavia, per molti anni era sbagliato raccontare. Il gruppo 63 negava la narrazione e il 68 negava perfino la scrittura. L'altra domanda è come lavori. Ho certo un metodo, una disciplina, ma devo dire che la mia non è una disciplina imposta. Non mi lego alla sedia. Diciamo che è un'abitudine amorosa. Di solito mi alzo la mattina abbastanza presto. Impiego molto tempo per scrivere. Un articolo lo scrivo quattro o cinque volte. Impiego giorni a finirlo. Non parliamo poi di un libro. Lo scrivo e lo riscrivo. Non ho la scrittura di getto. Non potrei mai lavorare con il registratore come fanno alcuni che incidono e poi trascrivono. Devo avere la pagina davanti. Mi ci devo soffermare, scrivere, tornare indietro e ricominciare da capo. L'ultima domanda che hanno scelto è cosa leggi, quali sono i tuoi autori, o meglio ci sono autori che tu possa definire tuoi? Per me è difficile rispondere a questa domanda. Io sono una che prende delle cotte, fin da bambina. Quando mi innamoro di un autore, tendo a divorarlo. Vado a cercare tutti i suoi libri. Uno dei primi su cui mi sono fermata a lungo è stato Proust. Stranamente, perché non lo sento vicino come scrittore. Ho amato molto anche Fedor Dostoievski, Katrin Mansfield e Charlotte Bronte. Sono una lettrice appassionata. Mi prendono in giro per questo, perché ho sempre la valigia piena di libri. Quando viaggio, devo avere i miei libri. Leggo di tutto, molti libri di donne, ma è il grosso romanzo che amo. Mi piace il romanzo in cui potersi perdere, come Sister Carrie di Theodore Dreiser. Ho la lettera scarlatta di Nathaniel Hawthorne. Insomma, mi piace il romanzo in cui ci sia una storia. Credo di essere una delle poche persone che ha letto tutto di Balzac.